Allora sono qui con solido con il sesto alunno e la cosa che io non voglio assolutamente è avere qua delle funzioni sospese che poi qui sono negative dunque queste hanno delle problematiche io non voglio queste voglio tutto pulito ok un conto è ho le configurazioni allora lì sì ma qui è una parte che non deve avere configurazioni dunque io voglio tutto pulito è come se avere gli schizzi che non servono a nulla ok e dunque non va bene poi oggettivamente qui mi sembra un po sproporzionato rispetto al disegno e in più io direi che qua manca gradino ok manca gradino sproporzionato e poi abbiamo detto abbiamo detto mi ricordo neanche più dopo riguardo il video sono troppo vecchio ok a questo punto andiamo a vedere gli schizzi andiamo a vedere gli schizzi e dunque questo qui a me va bene ok mi va bene questo questo qui andiamo a vedere qua questo non mi va bene perché come il solito discorso l'intento del disegno è che è simmetrico dunque il 4 e mezzo non mi serve ok una quota in più qui ho delle quote non è vincolato qua si sposta tutto ok e dunque deve essere vincolato ok in più in più si poteva aggiungere delle quote per poi vincolarlo va bene poi va bene abbiamo i raccordi smuss va bene l'interasse mi sembra giusto perché se io vado a vedere qui l'inter è però anche qui si 107 lo teniamo giusto perché comunque questo non si sposta dai dunque 144 quello è giusto va bene ci vediamo la prossima e vederci